ciao ciao ragazzi bentornati sul canale del degio eccoci qui di nuovo con dirt 4 andiamo avanti con la carriera vediamo dove eravamo rimaste appunto avevamo fatto ne eravamo andati con la carriera rally e avevamo sbloccato la parte land rush allora giusto per vedere un attimino allora anche qui si è sbloccato qualcosina open contemporaneo rally valle del gallestriff degli stati uniti e via dicendo la sfida australiana insomma qua anche qua si è sbloccato qualcosina l'altra volta ho fatto la squadra e avevamo acquistato appunto il veicolo la opel adama al momento abbiamo 124 e 440 di crediti si potrebbe anche magari fare un altro acquisto di un'altra vettura però volevo aspettare vedere un attimino cosa riusciamo a fare magari riusciamo ad accumulare un po più di soldi per prendere la vettura un pochettino più prestante vediamo allora io direi di andare a vedere il land rush se possiamo farlo magari ci facciamo una sfida qui di buggy e così variamo anche un pochettino la carriera non rimaniamo sempre fisi su rally e ci si diverte anche un pochettino di più quindi andiamo subito qui direi con la sfida buggy e vediamo cosa riusciamo a fare ok ragazzi quindi eccoci qui dentro il menu delle prime sfide di buggy come vedete ci sono tre eventi ogni evento comprensivo di due gare quindi vediamo cosa riusciamo a fare anche per stare in tempi ragionevoli nel nel video andiamo subito in pista vediamo cosa riusciamo a combinare ok ecco qua la nostra vettura verde e nera come appunto è la nostra scuderia gli sponsor sono sempre quelli poi vediamo anche andando avanti magari di cambiare qualche sponsor vedere qualcosa di nuovo comunque bella mi piace la nostra vettura con i colori ufficiali anche del logo andiamo subito in pista vediamo cosa riusciamo a fare ok ragazzi ci siamo pronti alla nostra prima gara della carriera sulle buggy via di freno a mano attenzione via partiti non siamo partiti benissimo siamo secondi ora dietro hunter lo passiamo occhio qui alla prima curva arriveranno come dei fulmini come non detto prima sportellata arrivata cerchiamo di uscirne puliti più possibile anche se qui le sportellate sono di base e alla base del gioco qua la sportellata ragazzi è quindi ok qua siamo usciti bene qua andiamo un po oltre nella derapata ma ok l'ho ripresa tanto chiudiamo il primo giro in prima posizione non bisogna fare errori perché al primo errore qua si fa un balzo all'indietro in ultima posizione mi spiace che non ho potuto ancora mettere la camera ai pedali ma ho sempre dei problemi con la schedina di registrazione occhio qui e quindi posso utilizzare solo una webcam per il momento comunque spero che vada bene lo stesso che vi piaccia riusciamo a rimanere avanti nonostante l'errore anche qui andiamo a chiudere un po troppo siamo intanto al terzo giro di 4 occhio qui in accelerazione rischiamo di girarci e ci passa abbiamo perso un pochino vediamo se riusciamo a recuperare occhio qui all'interno ho chiuso troppo veramente qua siamo nell'ultimo giro dobbiamo rischiare tutto ok qua sono entrato abbastanza veloce vediamo se riusciamo a vincere questa prima gara sarebbe già tanto ok bene bene qua ok anche qui vado un po troppo oltre però forse riusciamo a chiudere tagliando il traguardo in prima posizione buono così buono così un po sporchi ma bene così quindi la prima gara è andata bene in teoria dovrebbe esserci subito la seconda quindi andiamo di nuovo in pista vediamo cosa riusciamo a fare anche nella seconda gara ok ragazzi quindi eccoci qui con la nostra vettura un po sporca il meccanico che ce la sta aggiustando e niente riparazione veicolo non la facciamo perché l'ho messa in automatico quindi i nostri tecnici aggiustano la macchina già da soli e quindi direi di andare avanti con il secondo con la seconda gara vediamo cosa riusciamo a fare via subito con la corsa ok ragazzi eccoci qui con la seconda gara del primo evento in usa attenzione si parte occhio alle luci via buono nostro scatto cerchiamo di tenerli interno ok prima posizione occhio alla prima frenatona ok bene siamo usciti bene attenzione qui a questi salti ok anche questa curva è andata bene bene qui andiamo a chiudere il primo giro in prima posizione non riesco a vedere dietro per via della polvere il distacco ma magari lo vado a leggere mi pare due secondi no mi voglio distrarre troppo perché vedete qui è un attimo è andare a leggere i tempi si rischia di perdere la gara e mi sa che ci hanno già recuperato un pochino occhio qua eccolo ecco la prima sportellata tanto passiamo che qui sul traguardo vediamo si sempre in prima infatti abbiamo perso parecchio solo per aver guardato i tempi ok arriva di nuovo Hunter all'attacco non si può lasciare nulla eh ragazzi qua non si può mollare il colpo e infatti ce lo dice anche lui ok quattro giri qui andiamo a chiudere un po' troppo occhio a non girarci uh è andata bene è andata benissimo tanto di nuovo Hunter si affianca come dire sono qua al primo errore che fai di passo e ancora un altro colpo ok paletti ok stiamo lottando con Hunter fianco a fianco qui andiamo a chiudere all'interno bene l'incrocio di traiettorie andiamo per l'ultimo giro vediamo cosa riusciamo a fare se riusciamo a dare un po' di distacco ad Hunter oppure se dobbiamo lottare fino alla fine qua andiamo larghi vediamo se arriva da dietro no ok 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 usciamo bene e via vinciamo anche questa gara un po' più a fatica sinceramente però è andata bene ragazzi dai come primo evento con i bug è andata bene ok quindi risultati gara primi classifica evento primi vediamo se ci dice qualcosa di più ok vediamo qui classifica evento primi con 25 punti Gomez 22 punti poi Green posizione in campionato vediamo siamo primi con 25 punti qui il il campionato praticamente si divide penso che si dita così in vari eventi come vedete qui prima seconda gara poi si andrà avanti appunto anche con gli altri eventi e poi c'è la classifica del campionato credo sia così andremo andremo poi a vederlo insieme ragazzi però per il momento io direi ci salutiamo qui e ci vediamo alla prossima sempre con la carriera di Dirt 4 vediamo che cosa si sblocca poi andando avanti ve lo farò vedere la prossima volta quindi ci rivediamo se il video vi è piaciuto mettete un bel like condividetelo se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale e attivate la campanellina per avere le notifiche di quando escono i miei video io vi aspetto qui come sempre alla prossima ragazzi ciao ciao ciao